Non è una prescrizione del medico quella di fare il rimpasto di giunta, se si dovesse arrivare a questo non è per l'appocciatura di alcuni assessori, anzi io sono felicissimo e contentissimo dell'apporto che ciascun assessore ha dato alla giunta municipale di Montesilvano per la professionalità e l'impegno profusi finora. Però capisco che magari ci possa essere qualche assessore che difficilmente o con difficoltà riesce a conciliare l'attività professionale con l'attività politica. Agli occhi dell'opposizione però questo eventuale rimpasto può significare qualcosa di diverso, un segno di debolezza probabilmente dell'amministrazione Maragno? No, assolutamente no, magari un segno di forza, assolutamente non di debolezza perché per quella che è l'attività che abbiamo mostrato, la massima trasparenza e la massima partecipazione di tutti all'attività politica compresa dell'attività delle opposizioni, il fatto che si possa, perché non c'è nulla di scontato, a divenire ad una modifica di giunta serve semplicemente per continuare ad alimentare quel percorso virtuoso che abbiamo tracciato in questi mesi.